Eccoci qua Sabrina Qual è la prossima missione? Sti cazzi Altro porco di quel caffè sta rubinata Dana, hai sentito? Fino all'ultima parola, anche se la prenderei a cazzotti volentieri Direi che è meglio che tu segua quel consiglio Se riesci a scortare l'altro mezzo fino al punto d'incontro Riusciremo a scoprire cosa hanno in mente D'accordo, e dove dobbiamo andare? Da quella parte Si trova qui, vero? Esatto Eccoti là Devo solo arrivare lì dove c'è l'elicottero Eccoci qua Senza aver destato nessun sospetto Che su... cosa fanno questi? Eccoti, finalmente Ecco fatto Senza destare nessun sospetto No, non era lui? Ah ok, no Arrivo subito Eccoci qua Sono appena salito sul mio veicolo Uccidi gli infetti usando armi e i razzi Puoi tenere gli occhi bene aperti su tutti i nemici aerei, ok? Non voglio far aspettare gli altri comandanti Fairo Ah, che io vorrei scambiare due parole con i tuoi amici nel progetto Fairo D'è Mi hai appena condotto dall'un idiota Esatto Che tra l'altro sti uccellacci Non ne abbiamo visti tantissimi in giro Cioè Appaiono solo queste missioni qua dove c'è l'elicottero Ecco qua Ah, cacchio Andati Direi proprio di no Dai però, su Sei lento Hai un elicottero Usalo Ecco qua Tanto si concentrano solo su di noi praticamente Eh, lo so, lo so La Burro Bank Cazzo di nome è Trovate gli infetti Quindi raggiungi la base Arrivo Eccoci qua Allora, dammi un secondo Oh Di nuovo l'Hydra Il mio mostro preferito Ops Cavolo Meno male Allora Per culo Ecco fatto Per fortuna che Anche il Mitra mica male a livello di danno Addio la Uh, calmo, calmo Addio la roccia Perfetto Addio al sasso Raggiungi l'elicottero abbattuto Arrivo Dov'è? Arrivo, arrivo Li proteggo io Ma porca di quel Cazzo sta succedendo Allora Esatto Iniziamo ad occuparci di quello grosso Purtroppo Ecco qua Eh, datti una mossa Invece Difenderti da solo Non ce la fai, no? Teneteli a base Per qualche altro minuto Ecco fatto Ok, ne manca solo uno Andato A posto Mamma mia sta gente Sono pure soldati esperti Eh Eh, lo so Eh beh Io intanto Continuo a seguirlo dal basso Letteralmente Sto proprio alla sua altezza Ecco fatto Ecco fatto Cacchio E attento a dove spari Se invece tu sapessi Difenderti da solo Non ci sarebbero problemi, no? E invece qua devo fare tutto io Tanto adesso arriva un altro idra Di sicuro Eccolo lì Ecco Uh, attenzione Fatto Eh, va bene Ok Idra Numero uno Distrutto E idra numero due è andato Se almeno riesci a gestire I bruti È un lavoro in meno per me Almeno Letteralmente A destra o a sinistra A sinistra Eccolo Ecco qua Uno è andato Eh, come sta andando Come vuoi che vada Ecco qua Ecco com'è andata Io che li faccio fuori E tu che Invece devi fare la Principessa in pericolo Dovranno essere tutti e quattro i comandanti Dan Hai sentito? Sembra che non se ne stiano lì con le mani in mano Devi fare fuori tutti i comandanti, James Non fermeremo la missione Ma guadagneremo del tempo Finché non ne sapremo di più Che novità Voglio dire Ok Che troia No, 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 no Non mi buttare giù Perfetto No Perfetto, è andata Ok Andato Ok Purtroppo mi posso occupare Di un idra Alla volta Non ho Possibilità di farne più di uno Assieme Ancora Kabum Andato Manca solo un brutto Ecco qua Addio Oh, calmo Scappa, scappa Che culo Più di una medaglia Metto la promozione suprema Ecco fatto Tranquillo Ci penso Aspetta che atterro perché sto andando a fiamme Ecco fatto Meno male Qualcuno gli dà una riparata Quest'elicottero E che palle Uno? Vedo tre tentacoli io Allora Calmi un attimo Allora Ecco fatto Dammi Allora Purtroppo Mi devo Occupare di una cosa alla volta Ecco Wow Perfetto Brutto andato Abbiamo un nemico nella base C'è vicino E io me lo mangio A tutte le unità Qui Red Crown La vostra missione è ingaggiare E annientare il nemico Passo Mangiamoceli tutti Che tanto voglio dire Sono punti per me questi Quale di questi stronzi è Elvis? Non lo so ma io me li mangio tutti Cazzo questi bastardi dei briefing sono tutti uguali Ecco qua Grazie Perfetto Trovato Stai pensando da camice bianco figliolo Non da soldato Il gas nervino non avrebbe causato danni strutturali Avremmo potuto rioccupare l'area entro 72 ore E in questo modo avremmo una perdita totale di popolazione e territorio Strategicamente è inadeguata Ovvio Perché perde un territorio? Vorrebbe dire Perdere Un'intera parte di supporto E io me ne volo via Ecco qua Usciti dall'allerta Missione completata Ups Bastardo Non è il momento di rispondere al telefono Esatto Prossima missione di nuovo di Sabrina Dai ci manca pochissimo per salire di livello O forse lo facciamo aspetta Devo uccidere qualcosa di grosso giusto per salire di livello Dai Una volta che mi serve un nemico grosso non ne appare manco uno Dai Mi accontento di questa struttura militare Paparapà Paparà Ecco fatto Dai un po' di punti Me li riesco a fare no? Con qualche car armato distrutto Squadra d'assalto in arrivo Palla pure arrivare Palla pure arrivare Ecco qua E addio la squadra d'assalto Eppure non mi è bastato per salire di livello Fantastico Grazie a tutti Im farming E assily Done Miания Nagra La squadra Ma and euro Li Esatto A In